A causa del forte vento di questa notte è crollato una parte del muro di cinta del cimitero di Fiano. Abbiamo sentito un forte botto, commentano alcuni cittadini, che intorno alle 5 sono stati svegliati improvvisamente. È stato solo poco più tardi che il primo cittadino Luca Casale, assieme ai tecnici comunali, ha dato le risposte ai cittadini, dichiarando che il muro era stato costruito con un cordolo in cemento con muro di mattoni senza legarlo con dei sostegni di ferro, aggiungendo che però il fatto che si sia deteriorato nell'arco di soli 10 anni lo lascia davvero perplesso. Il primo cittadino ha anche precisato come i lavori di ricostruzione avverranno in tempi rapidi.